Procuratore, lei ha parlato di compenetrazione tra trascendente ed immanente nella professione di magistrato, come ci è riuscito Livatino? Livatino era un giudice eccezionale, faceva il giudice come bisogna farlo laicamente, applicando le norme del diritto e non le proprie convinzioni, però lo faceva con una umanità in cui si riversava la sua famiglia fede. La ricchezza della fede, come c'è caso di spiegare, è che si traduce un insieme di valori che, come diceva proprio Livatino, ispirano e vivificano l'attività laica che è quella della giudizia.